Ma bella raga, ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale Questa oggi ragazzotti miei siamo qua tornati su Brawl Stars con Colette Siamo già nella schermata della partita anche se in realtà potrai uscire Perché la sto facendo al grado 20 da livello 1 tutto in una botta Purtroppo come sapete o forse non tutti lo sanno Il mio obiettivo principale sarebbe stato fare un più 500 tutto in una botta Però non è possibile perché a volte il gioco ti obbliga a uscire Addirittura non mi ha fatto uscire dal tipo grado 13 fino al grado 18 Qualche partita fa mi ha fatto uscire a caso non so perché Comunque io nella descrizione vi lascerò ovviamente la live così vedete che l'ho fatto tutto in una botta Che ci ho messo in realtà neanche tanto sono in live da 3 ore Per ora sono passate 2 ore e mezza perché all'inizio ho fatto la seta di potere Insomma tra una cosa e l'altra sono passate 2 ore e mezza mancano 50 coppe Tra l'altro come stavo dicendo anche in live non so come sia possibile Questa mappa va schifo per Colette Colette da livello 1 come in realtà ogni brawler ma Colette veramente è inguardabile Ma tanto 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 da livello 1 Però in realtà è stato easy rispetto a tutti gli altri sarà tipo il quinto brawler Che prova a fare da livello 1 al grado 20 E' stato anche il più facile nonostante avessi contro la mappa E' proprio il brawler che non mi piace Poi siamo già quinti e non ho incontrato un cane raga Io sto temporeggiando nella parte di sinistra Bella per il carletti E allora amico mio se vieni qua magari potremmo iniziare a ragionare Leon bravo Colpo di grazie vieni Dai amico Eeeh Ah a posto bravo E siamo quarti E il più 4 c'è Lul Siamo terzi Qua bull comunque Dai Leon Dai Leon che insieme ce la facciamo Anzi va tutto Nel dubbio aspetta Vengo di Ma che rode Ma che rode zi Leon dall'altra parte Dai Leon ma renditi utile Mannaggia Vai bro Si ce la puoi fare Su forza e coraggio Dai Leon Dai Leon Dai Bene Marone mio Eeeh che bottazza che mi ha attirato Dov'è Leon? Però vuoi Leon Uuuuh Molto interessante Vediamo se riesco a B No non ce la faccio E adesso che si è bustato qui qua Però aspetta in realtà Eeeh no non ce la faccio Beh comunque un più 8 direi che ci sta E che sia mai Qua ci proviamo fino all'ultimo Mannaggia raga per quanto non ce la faccio però Provo Eeeh Ci ho provato ma Comunque più 8 va benissimo Perché sento sapore di sangue in bocca? Non lo so Comunque siamo lì lì per il grado 19 E andiamo avanti Prossima partita per noi Basta arrivare quinti per fare il grado 19 Quindi mi raccomando A te Oh oh Madò meno male che era Era one shot Gelindo ragazzi Mamma mia Mi hai salvato bro Sei un animale Pocio Pocio pocetto Non recuperare vita bro Sì bro Madò Eeeh Ma ha distrutto Ma che è? Ma te ha dato due bottazzi Anzi Mi sa che qua No in realtà Pensavo Se Gelindo se la fosse giocata in un modo un po' diverso Poteva tranquillamente farmi Qua prendo la roba Bella raga Bellissimo Andiamo a cinque Sì abbiamo usato la ultima Intanto abbiamo tre power up in più Quindi E che fai le ultime Vi dico la verità Però non so se riesco Sto Gelindo è un cagato Eeeh Panino pure Aspetta andiamo da Karl allora Ehi Karl Diciamo che tu potresti regalarmi grandi soddisfazioni Ma posso Ah 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 Sì ho vinto Yes Bel più dieci per noi Sta andando veramente bene Siamo a 467 coppe Manca veramente poco raga Qua attenzione Non fare assolutamente l'errore Prima che era un po' in difficoltà Ma adesso no Allora Eh Karl e Tignoz Se sei ancora là Però mi sa di no Ah però c'è Iris Bello Ma spettacolare Più 8 Non so che dire Sono Easy Ma lo tengo livello 1 E lo facciamo al grado 30 Quello è È un po' azzardato A chiedere troppo Posso provare Dai però Veloce a recuperare Su Posso fare Eh niente ragazzi Ma era ovvio Dai Che chiede me a dire Una pappa con 11 power up Scusatemi Comunque mancano 25 coppe Anche qua stesso discorso di prima A destra Molto probabilmente ci sarà qualcuno Ovviamente la Piper deve fare Il cacaca da me Prova a prendermi il power up È ovvio che ci sia qualcuno Nel cespuglio E infatti Infatti Sì Piper Complimenti Veramente furbizia Top Poi io intanto Inizio pure a tirare Qualche bella botterlina A questo bull Per la ulti Sempre che comunque Ok Ops Meno male Ulla ma Per favore Hai già 4 power up Ma vatti a fare una vita Scusami E niente Vuole prendere anche quella Ok Ti giuro zì che se muori Godo Madonna Madonna bro Madonna bro Quanto sto Una goduria Qua No Eh Beh muore anche lui Va bene se muore anche lui Beh raga Beh raga Che dire follettine Follettini Io Sono veramente commosso Direi che qua Abbiamo fatto un colpaccio Ma proprio Veramente bello Anche lui muore Aspetta Colpettino La Boom Easy 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 Si mi sa che morirò Però da O forse no Niente Non voglio morire Sto tenendo botta Non so manco io come No ecco appunto Come sto No Niente Ho parlato troppo presto Beh però più 6 Fatto così E è onesto No 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 Bene 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 Sto va camperando rosa Aspetta bro Aspettami un attimo No vabbè Non ci credo Sono morto io Tara in realtà muore Ma non ci voglio credere Però ragazzi Non ci voglio credere Ma che sai scherzare ora Ma dai E abbiamo Laura Che me l'ha voluto dire così Oh mio dio Grazie mille Laura Gentilissima Ah no Si Laura Proprio lei Quella vera Non è un fake Ma che gliene va a dire qua Eh vabbè Bella per lui Raga vi giuro Non riesco più a fare Le cose Oh Ma che stai a scherzare Cioè non ho mai droppato Sto iniziando a droppare Adesso alla fine Ma ti pare Io adesso sto fermo qua Non mi muovo Basta la mia partita Però aspetta Che c'è quella cassettina Eh no Che fe la buttio Laura Fa pure l'abburamento Grazie mille Laura Oh siamo quinti Finalmente un più due Allora attenzione Perché questa partita Mi sembra che stia prendendo La giusta piega Siamo quarti Fate pure Tranquilli Non vi tocco Bello 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 Più otto Oh finalmente Una partita fatta come si deve Ovviamente il primo posto Non lo faremo mai nella vita Eh sì Bella bro Andiamo a 487 Basta fare Due partite decenti Già ho notato Lassopra Che si stanno fightando Grazie ancora Laura Gli è partita L'addonita acuta Tu spike Che fai un po' di Rotation Diciamo che potrebbe Starmi bene Ecco adesso ovviamente Non va Eh spike Roteio Fai finta Sto spike Sto spike me lo devo togliere Bello Eh però Non posso usarla ulti Sennò mi fa lui Spike morì Disgraziato Devo arrivare al secondo Là Morì Uh 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 Più otto Dai raga Che siamo agli sgoccioli ormai Boom 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 Eh però aspetta Che forse 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 Che Più otto Però siamo proprio Lì 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 Mancano Mi sa Quattro cop Cinque cop Basta arrivare terzi E abbiamo finito Please Mi ha detto che basta arrivare terzi Quindi che sia mai Non rischiamo nulla Noi Oh piper Aspetta Piper 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 Ma ha distrutto No 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 Via scappa scappa Siamo settimi Regà temporeggiamo Ma non abbiamo mica bisogno di correre Siamo sesti A me preoccupa molto dynamite Shelly Fino a quando manteniamo le distanze Ci sta Ecco e ora Dynamite Che gliene vai a dire Però siamo quarti Basta che muoia uno Please Uno solo Però dynamite In realtà Lo stiamo abbastanza distruggendo Ecco qua Occhio perché se mi hit Se mi hit Però io posso In realtà Provo a fare Terzi Sì raga Grado 20 Fatto Oh mio dio Proprio noi Quelli veri Chiaramente andiamo avanti Nel dubbio No beh Rubato dire Era proprio impossibile Però Capito no Però comunque Eccolo qua Grado 20 501 coppe Fatto in circa Tre ore In circa tre ore Diciamo Purtroppo Uscendo dalla lobby Non abbiamo il più 500 Perché vi ho detto prima Che a volte il gioco Ti obbliga a uscire Però Regà Grado 20 A livello 1 Fatto tutto in una botta Vi lascio nella descrizione La live completa Se volete vedere Appunto Tutta la scalata Io spero che questo video Vi sia piaciuto Se così fosse Vi raccomando Un bel like Con iscrizione Camparellina Tattica Tattica Noi come sempre Ci becchiamo alla prossima Con un nuovo video Bellissimo Noi come sempre Noi come sempre